Lo hai lasciato tu. Non era quello giusto. Non quello con cui trascorrerci il resto della tua vita. Non era come te l'eri immaginato all'inizio, semplicemente, boh, sono cambiate le tue aspettative. Lo hai lasciato tu? Ok, d'accordo. Però speravi almeno che ti chiamasse. Dai cazzo, aveva sempre fatto così ogni volta che avevi minacciato di andartene. Aveva rilanciato. Aveva ceduto qualche tua richiesta, se era mostrato migliore di quello che era. Aveva fatto il possibile per farti sentire a tuo agio e ti aveva, boh, convinto a restare. Pensavi che ti avrebbe chiamato invece questa volta? Oh, non chiama. Non chiama. Controlli il cellulare continuamente? Niente. La mail? Nulla. Forse non c'è connessione. Allora ti auto-mandi una mail e la ricevi subito, puntuale. Merda. Ti auto-chiami al telefono? Trovi occupato. Va bene, d'accordo. Allora questa volta chiamo io. Dai, chiamo io. Non risponde. Comincia a pensare che questa volta hai esagerato tu, che le cose potevano essere aggiustate. Forse parlandosi. Forse lo ami ancora a modo tuo. Eppure hai finito per lasciarlo. Ma dai. Dai, ma davvero l'hai lasciato? Forse avevi semplicemente bisogno di una pausa. La pausa! Ecco, cazzo, la pausa! Gli hai chiesto una pausa! Ma lui, bastardo, non richiama. Forse ti ha lasciato lui. Anzi, forse l'odi. Non forse ti mancano. Forse l'odi. Anzi, l'odi. L'odi. Preghi ogni sera perché le cose gli vadano malissimo. Perché si renda conto del vuoto che gli hai lasciato. Torni da te, supplicandoti di tornare tu a quel punto. Oh, non lo so. Vediamo. Ci penso. Nel frattempo controlli Facebook. Continuamente. E sembra che le cose gli stiano andando bene. Molto bene. Meglio di prima. O comunque meglio di te. Scopi di gelosia all'idea che possa sostituirti. E stai male all'idea che adesso potrebbero esserci delle persone che prenderanno il tuo posto. Persone che non lo ameranno mai come l'hai amato tu. Che staranno con lui solo per interessi e che non conosceranno mai i segreti che hai imparato a conoscere tu. Persone che faranno di tutto per cancellare ogni traccia del tuo passaggio. Tu che l'avevi tanto amato. Ok, forse non era quello giusto. Era quello sbagliato e... E tu pensavi... Ah sì, alla peggio faccio esperienza. E invece alla fine hai finito per regalargli i tuoi anni migliori. Adesso che hai passato i trenta? Che ti piglia più? I tuoi amici continuano a dirti che... Che troverai quello giusto. Che... Che troverai quello che meriti. Quello che ti merita. E in effetti ti guardi intorno ed è vero. Tutti quelli della tua età sono occupati. O almeno così sembra. E invece te? Cos'hai che non va? Come mai non ti vuole nessuno? Oh! Desideravi tanto la libertà. Adesso ce l'hai. E goditela. Scusa, non era quello che volevi. Te lo ripetevi sempre. Che ne volevi tanti diversi. Uno diverso ogni settimana. Uno più bello dell'altro. Adesso che fai? Sentire quelli che sentivi prima di lui. Magari adesso... Sono liberi. Magari ti fanno conoscere qualcuno. Ti presentano qualcuno di nuovo. O magari... O magari finirete... Per rincontrarvi. E dirvi che semplicemente era il momento sbagliato. E vi capirete... Come non vi siete mai capiti prima. E vi piacerete. Cazzo quanto vi piacerete. Forse questa volta sarei tu a rilanciare. A dargli qualcosa di più. Forse comincerete a pensare a qualcosa di serio. Ma perché no? Perché non con lui. Con chi altri, se no? Avresti mai pensato ad un rapporto stabile... Dopo aver sperimentato sulla tua pelle il peso di questa maledetta libertà? Adesso anzi cominci... A guardare quelli che ce l'hanno. Un rapporto stabile. Che si sono costruiti con piccoli sacrifici quotidiani. E gli invidi. Si sono messi su casa. Si sono sposati. Hanno fatto figli. Invece a te sembra... Sembra di non aver costruito niente. Ecco. Questo è quello che provi da quando l'hai lasciato. Il tuo lavoro. Il tuo lavoro, sì. Da quando lui ha lasciato te. Poco importa. Io ti auguro di non far parte della mia fazione. Quelli che amano il proprio lavoro. No, no. Anzi, io ti auguro di far parte dell'altra fazione. Quelli che lavorano per vivere. Ma in ogni caso, se tu avessi appena perso il lavoro, lo stessi per lasciare... Insomma, permettimi di darti un consiglio. Impara l'inglese. Perché se è importantissimo l'inglese per lavorare, lo è ancora di più per non lavorare. Da ora in poi non sarai più un disoccupato. Ma un freelance. Non mendicherai più. Tutto al più farai fundraising. E se mendicherai da altri mendicanti farai crown funding. E in ogni caso, non sarai mai più solo come un cane. Tutt'al più... Single.